Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 3 dicembre 2021, è una giornata piuttosto uggiosa dal punto di vista del tempo, ma noi dedichiamoci questa mattina, così come inizio di giornata alla lettura dei giornali sia sul Corriere Adriatico che sul resto del Carlino, cominciamo però la nostra piccola trasmissione con vedere qual è il santo del giorno. Il santo di oggi è San Francesco Saverio, un santo molto molto noto, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Francesco. San Francesco Saverio era l'apostolo delle Indie, così è stato definito da Papa Urbano VIII. Francesco da giovane si era dedicato allo studio delle lettere, fu anche professore di filosofia a Parigi, ma l'incontro con Sant'Ignazio di Loyola fu un evento decisivo nella sua vita, divenne sacerdote e missionario, fu spedito nelle Indie per evangelizzare quelle popolazioni. Si spinse fino al Giappone, attuò molte conversioni e compì molti miracoli. Progettò anche di recarsi in Cina, ma alla vigilia di questa impresa, così inficiato da tante prove e da tante fatiche, morì prima di partire da questa missione, ma il suo esempio fu un esempio imitato poi da tanti altri missionari che purtroppo furono anche martirizzati. Ebbene, dopo questo vediamo le previsioni del tempo, una instabilità diurna questa mattina, lo vediamo subito sulla mappa, vediamo nuvolette con pioggia, pioggia e neve dagli 800 metri in esaurimento però entro la sera. Più asciutto sulle coste, temperature massime in calo, la massima è di 10 gradi, la minima di 7. Ed ora diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, a partire dal resto del Carlino. Code per i tamponi, studenti esclusi, primo giorno per il drive-in di Via Lombardia, oltre 200 tamponi molecolari, ma il mondo della scuola rimane fuori. E la fotonotizia è dedicata al primario del pronto soccorso di Marche Nord, il primario Gnudi, Novax Viodio, ha dichiarato, ha fatto un post su Facebook e ha scatenato la furia dei social appunto su di lui, una serie di critiche ma anche una serie di appoggi dal mondo della medicina. Vediamo le polemiche all'interno. Il pediatra Mancino, bimbi contagiati, molti casi anche in nidi e mascherine. E poi ieri si è svolta in prefettura la cerimonia per la consegna dei maestri del lavoro di questo diploma, i volti e le storie, riconoscimenti in prefettura. Vediamo le due notizie che riguardano sport a fondo pagina. Per l'AVL scende il silenzio sul progetto e si parla di basket ovviamente. Intanto la squadra prepara la sfida a Varese, mentre per il calcio viene posta in evidenza la situazione del Fano che perde il suo capitano. Infatti Gigli se ne va. Apriamo il resto del Carlino e vediamo subito la fotografia posta in grande evidenza del primario Umberto Gnudi. Il primario sbotta Novax, mi fate schifo, ha dichiarato, e loro si scatenano sui social, insulti a raffica. Il dottor Umberto Gnudi scrive un post su Facebook dopo l'ennesimo ricovero di non vaccinati che pretendevano di dirgli come curarli. Non è questione di libertà di pensiero, ha dichiarato, ma di rispetto per gli altri. Voi non ne avete e non ne meritate. Insomma sono parole forti che ha dichiarato il primario, che ha ricevuto anche il sostegno dell'Ordine dei Medici. Qui vediamo il presidente dell'Ordine dei Medici, il dottore Maria Battistini, Paolo Maria Battistini. Lui si schiera dalla parte del primario. Le segnalazioni saranno archiviate, ha dichiarato. Poteva essere meno duro, questa è la concessione che ha fatto il presidente, ma il concetto è condivisibile. Chi non si vaccina è irresponsabile, ha detto anche lui. E poi via i pazienti Covid da malattie infettive. Saranno concentrati nella palazzina F, quella in cui a gennaio scorso sono stati attivati 41 posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Pronti alle mascherine obbligatorie all'aperto è una dichiarazione di Francesco Acquaroli, presidente del Regione Marche. La situazione del Covid nelle Marche si inasprisce e davanti alla impennata dei contagi che non diminuiscono. Il presidente Acquaroli non esclude una nuova ordinanza regionale. Se capiremo che sarà necessario, ha dichiarato, faremo tutto con la massima tempestività. Vaccini anche ai minori di 12 anni, punto interrogativo. Aspettiamo gli input del governo, ha dichiarato il presidente. Tamponi, code al drive-in, esclusi gli studenti. Oltre 200 tamponi molecolari effettuati nel primo giorno di attivazione dell'Hub in via Lombardia. Ma il mondo della scuola resta fuori. È un'apertura bagnata, quella di ieri, con circa 10 volontari che per 5 ore di fila hanno coordinato l'arrivo dei prenotati sotto la pioggia da ora. Dunque niente più staffette per i pesaresi fino al codma di Fano. Ovviamente i fanesi e coloro che vengono nell'entroterra potranno sempre usufruire di questo centro al centro ortofrutticolo di Fano. La nota negativa. Ieri doveva anche essere attivato il percorso per i tamponi scolastici. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato. Al momento, diversamente da quanto preannunciato, la regione non ha attivato nessun percorso specifico per i tamponi scolastici. Lo ha detto Biancani, il consigliere regionale, a causa, sembra, dell'alto numero di ragazzi coinvolti e interessati al servizio. Quindi è un problema di organizzazione. E qui vediamo delle fotografie che appaiono per quanto riguarda la somministrazione di questi tamponi. L'effettuazione di questi tamponi. Il virus attacca anche i bambini. I casi sono in aumento. L'allarme è lanciato dal pediatra Mauro Mancino. Ora si ammalano anche nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Serve subito un vaccino per tutelare anche i più piccoli. Per ora ci sono solo sintomi lievi. Ma il peggio, dice il pediatra, deve ancora venire. Chi rischia sono anche i nonni. Perché sono i nonni, soprattutto a causa dei genitori impegnati nel lavoro, che badono ai figli. Quindi sono più a contatto con i più piccoli. E poi i nonni sappiamo che appartengono alla categoria più fragile. Per le abitazioni al porto siamo al giro di Boa. Si tratta dell'area dell'ex consorzio agrario di Pesaro. Il 17 le parti si confrontano in tribunale. Sono state presentate relazioni e memorie. 80 famiglie sono in attesa perché hanno prenotato gli appartamenti che devono essere costruiti. Sono due palazzine con tanti appartamenti a posto dell'ex consorzio. Siamo dunque al giro di Boa. Una storia iniziata dieci mesi fa, quando la procura, sulla scorta di una relazione della Capetineria di Porto, aprì un fascicolo per tre persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di Paolo Giorgini come rappresentante del fondo israeliano, Alessandro Giorgini e il direttore dei lavori Luca Ferretti. Una notizia di politica per quanto riguarda il Partito Democratico. Il commissario è al lavoro, ma Gostoli resta in sella per il momento. Oggi Matteo Mauri sarà nella sede regionale del partito a Dancona. Il segretario viene prorogato, Gostoli, per gestire l'ordinaria amministrazione. Intanto il congresso regionale del Partito Democratico dovrà tenersi entro il prossimo 15 di febbraio. Una bella pagina dedicata ai maestri del lavoro. Ieri la cerimonia della premiazione si è svolta in prefettura. La cerimonia è stata riferita al 2020 e al 2021. Il 2020 non si è tenuta per ovvie ragioni a causa del Covid. Ed ecco le storie della nostra provincia. È stato il prefetto Tommaso Ricciardi che ha inaugurato la cerimonia di premiazione per l'anno 2020-2021. 10 le stelle al merito che sono state consegnate. Qui vediamo le persone che hanno ricevuto questa onoreficenza. Si tratta di Maurizio Benedetti, di Maria Gambarara, Antonella Terenzi, Crescentino Sabattini, Giancarlo Mei, Stefano Ballarini, Andrea Fabiani, Marco Arzeni, il direttore della Covcommercio. E poi vediamo targhe speciali. Sono state consegnate al Benelli Armi. E qui vediamo il prefetto Tommaso Ricciardi con il presidente del Consiglio Comunale di Pesaro, Marco Perugini e l'assessore regionale Aguzzi. Fatturati nel 2020 in testa l'ABS e la Profilglas. Grandi perdite per la Team System in questa classifica che è stata redatta dalla Berloni. Grandi perdite, dicevo, per la Team System e per Eden. Stupisce per utili anche l'HB di Boscarini che sfiora i 27 milioni di euro per Renko molto fatturato e pochi utili. Diamo un'occhiata a questa classifica e vediamo chi troviamo. L'ABS passa dal quinto al sesto posto, quindi perde un posto per un calo del 16% del fatturato. Infatti dai 705 milioni del 2019 è passata a 578 con i 2 milioni e mezzo di utili. Dietro c'è l'affanese Profilglas con 520 milioni e utili per 8 milioni e 200 mila euro. La Renko sale dal 22esimo posto al 16esimo della classifica e mostra un fatturato fortemente in salita, più 24,7% per 223 milioni ma con un utile di 117 mila euro, un utile un po' risigato. La Lube supera la Scavolini anche se per meno di una manciata di milioni. Sopra i 100 milioni di fatturato appare invece al 26esimo posto la Riva Cold di Montecchio con 146 milioni e 2,9 milioni di utile. Un gradino sotto c'è la Eden Viaggi con 145 milioni con un crollo del 68%. Ovviamente i Viaggi hanno molto risentito della situazione della pandemia. Il crollo è stato, dicevo, del 68% sul 2019 con una perdita di 12 milioni. Al trentesimo posto c'è la Fox e per quanto riguarda invece le aziende multiservizi, la fanese Aset si evidenzia con 52 milioni di fatturato e 4,3 milioni di utile. La Papalini Spa, dell'ex presidente di Confindustria, ha 48,6 milioni e dichiara un utile di 2,2 milioni di euro. E poi abbiamo altre aziende come la Xan Italia, insomma tante altre aziende che prosperano e danno lavoro a tante tante persone. Giriamo ancora la pagina e siamo sulla pagina di Fano. Abbiamo ancora la fotografia di Don Marco Polverari che mostra una delle sue costruzioni del presepe di Palazzo Fabri. Il Comune dà sostegno al presepe di San Marco. Ad assicurarlo è l'assessore al turismo, dopo l'appello lanciato da Don Marco Polverari, autore dell'opera che attira migliaia di visitatori curiosi. La prossima settimana, assicurato Lucarelli, faremo un incontro con Don Marco e le associazioni coinvolte negli eventi natalizi per la gestione delle code che potrebbero formarsi lungo le vie Mura-Sangallo per visitare questa meraviglia di presepe fatta dopo tanti tanti anni di impegno e di collaborazione. Che a Roma di Natale gli eventi di Rocca Aperta, anche la Rocca Malatestiana ospiterà tanti eventi in occasione del Natale per il mese di dicembre e si comincia domenica prossima con la danza. Ma per stasera c'è uno spettacolo molto molto interessante che si allestirà nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna ed intolato le Zaraghedde. Sul palco una pizzica speciale. Perché una pizzica speciale? Perché tra i ballerini abbiamo anche degli attori disabili. Anche a Fano si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità. Alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, uno spettacolo inedito. organizzato da Teatro in Faccia. Un teatro che non c'è solo fare. Perché tutto in scena dobbiamo essere credibili e coinvolgenti. Sono un po' le dichiarazioni che sono state fatte ieri durante la presentazione di questo spettacolo. Lo spettacolo sarà d'ingresso gratuito. Però occorre munirsi di Green Pass ed effettuare la prenotazione al numero 338-490-90-39. PD Bacchiocchi, come il partito ha vinto le comunali, è segretario del Partito Democratico di Fano uscente che fa un po' una sintesi del suo mandato. Non è in gara per il rinnovo, però insomma è sempre in pista per l'area di futuro democratico. Quindi Bacchiocchi è sempre un esponente importante del Partito Democratico. Qualche fatto di cronaca. Riga l'auto dell'ex per Ripicca è stato condannato. E' ancora un processo per liti familiari. Il patrigno di un giovane è stato riconosciuto colpevole di lesioni sul ragazzo caduto da un balcone. Sono appunto le cause che si stanno svolgendo in questi giorni davanti al Tribunale di Pesaro. E poi sul resto del Carlino si parla di una bella realtà, quella che sorge a finile. E' quella della cooperativa T41 che si dedica al recupero dei disabili. fa tantissime attività come la manutenzione del verde, la gestione del centro psichiatrico del Bevano, la distribuzione di fano stampa, la polizia dei cimiteri. Insomma tante tante attività. Gestisce anche delle serre dove coltiva delle piantine. Tante tante attività che possono così addurre al recupero dei disabili, di coloro che sono meno fortunati. A Pergola si parla di Cioccovisciola. Decolla l'evento più goloso. L'undicesima edizione è in programma per domani, domenica e mercoledì 8 dicembre. Dopo lo stop forzato del 2020 torna l'evento pre-natalizio. Questa è una bella occasione, ha detto Varotti, direttore della Confcommercio. Una bella occasione in più per accendere i riflettori sui bronzi dorati e il museo che li costudisce. Quindi un'escursione a Pergola dal territorio circostante ma anche da altre regioni è così consigliabile. Perché a Pergola ci sono tante belle cose da vedere e anche molte cose da gustare. Una pioggia di iniziative contro la violenza delle donne. Terre roveresche, quattro panchine rosse, quattro amministratrici. In prima linea è un coste. È l'articolo di fondopagina. Apriamo anche il Corriere Adriatico. Vediamo come sulla prima pagina viene richiamato il post di Gnudi che non molla l'osso. Il primario del pronto soccorso chiarisce dopo lo sfogo sui social e resta fermo sulle sue posizioni. E poi la fotonotizia con i tamponi che si effettuano in via Lombardia a Pesaro. Le tre notizie a centropagina, i maestri del lavoro in prefettura, la classifica delle imprese alla prova del Covid, Ariston termo in testa a livello regionale, si parla appunto della classifica regionale, e poi orario invernale, FS, più treni regionali e freccia rossa. Sempre una notizia che riguarda tutto il territorio della regione. Apriamo il Corriere Adriatico interno. Vediamo qui gli articoli che riguardano la presa di posizione di Umberto Gnudi. Lo sfogo, sciocche contro i Novax, grido di dolore di un medico che chiede di essere ascoltato dal sindaco ai sanitari, una certezza, il post di Gnudi deve essere compreso e raccolto. E qui abbiamo tre dichiarazioni importanti. Quella del sindaco Ricci, spero che faccia capire a chi non vuole vaccinarsi ciò che rischia e fa rischiare. Dell'Ordine degli Infermieri parla Laura Biagiotti, chi si rivolge alle nostre cure deve avere la stessa attenzione che noi abbiamo per loro, ha dichiarato. E poi il Presidente dell'Ordine dei Medici, Paolo Battestini, la trovo una provocazione forte, quella di Gnudi, per spingere alla vaccinazione. Lo ha condivido però a livello personale. Noi allo stremo per reggere all'onda dell'urto dei pazienti. Per il personale del pronto soccorso la situazione si fa sempre più difficile e il reparto è diventato, dice il Corriere Adriatico, come Fort Alamo. E qui abbiamo le fotografie di tutto il personale che lavora al pronto soccorso. Ma c'è anche una reazione da parte dei Novax. Deve essere rimosso dall'incarico. Ovviamente si parla del primario Umberto Gnudi e c'è chi come Carriera ha scritto ad Acquaroli perché si reagisca nei confronti del medico responsabile del pronto soccorso di Pesaro. Vaccini, gli hub intensificano l'attività con l'obiettivo di 2.700 dosi giornaliere. Nuove disposizioni per Pesaro, Fano e Urbino. Meglio prenotarsi e scaricare i moduli per non osservare ore e ore di coda. In fila sotto la pioggia in Via Lombardia e il Drive Est debutta con 200 tamponi. All'apertura delle 14 ieri erano già presenti due code di auto all'ingresso e non sono mancati gli ingorghi. Dunque più di 200 tamponi all'esordio del Drive e tamponi in Via Lombardia tra file e ingorghi e anche la mentele. Ovviamente sono arrivati tutti alla stessa ora e la pioggia non ha aiutato, spiega la protezione civile che punta a ridurre i disagi allargando gli spazi per le auto nel piazzale interno. Insomma si cerca di fare il possibile ma quando tutti accorrono nello stesso momento la situazione diventa quasi ingestibile. Produce un'ecopelle alla canapa ma va sotto processo per spaccio. È il caso di un 41enne che pianta delle piante di cannabis. Il legale in sua difesa dice un ricercatore finito anche su riviste specializzate. Dunque produce ecopelle alla canapa un prodotto innovativo questo tanto da essere brevettato e finire nel mirino di grandi marchi internazionali però finisce a processo per spaccio. Lui è un pesarese di 41 anni che è finito davanti al giudice perché nella sua abitazione sono state trovate 14 piante di cannabis. lui dice che non le usa a livello personale ma le usa per confezionare questi prodotti. Insomma vediamo ora se il giudice ci crederà o meno. Il matrimonio? Chiedetelo a Federica ma prima si deve sposare mio fratello. Matteo Giunta, ospite del Panathlon parla dei suoi impegni sportivi con un pizzico di privato. Insomma non si è fatto pregare si è sbottonato Matteo Giunta che qui lo vediamo tra Spagnolo e Riguzzi presidente appunto del Panathlon di Rimini. In prefettura i nuovi maestri del lavoro voi siete custodi della dignità sociale e il riconoscimento è stato assegnato anche a due aziende la Benelli Armi e la Centendrius di Fano. Insomma è qui una foto generale di tutti i premiati insieme al prefetto. Una pagina di Vallefoglia vediamo che Vallefoglia d'autunno una bella manifestazione la si farà in piazza la mostra al mercato sarà sicura domani e domenica il meglio delle produzioni locali trasformeranno il cuore di Montecchio. Insomma ognuno cerca di valorizzare i suoi prodotti per incentivare soprattutto le imprese ma anche per creare un clima natalizio pacifico, allegro ce ne sarebbe tanto bisogno in questo periodo dove ci sono tanti tanti problemi. Sulla pagina di Urbino si parla di medicina di genere Urbino è al top per la qualità del servizio la Fondazione Onda ha confermato anche per il bienio 2022-2023 due bollini rosa all'ospedale Ducale sono state premiate le opere di prevenzione diagnosi e cura delle malattie di tutto l'universo femminile ecco perché i bollini rosa Ricciardi nel comitato a Fano si parla di caro tariffe la CISL interviene risponde all'amministrazione comunale e risponde anche all'ASE che avevano giustificato i loro provvedimenti ma Giovanelli della CISL insiste Comune e ASET negano l'evidenza ASET Comune insistono ma le tariffe dell'acqua sono quelle più alte di tutta la regione Marche e poi abbiamo un'imposizione importante anche per quanto riguarda la Tari e l'IPEF a Fano si paga di più rispetto al resto della regione tasse da ridurre famiglie virtuose da premiare gli utili non devono finanziare più il bilancio a parere del sindacato e poi anche sul Corriere Adriatico si parla dell'Isola Felice di Fenile qui abbiamo la fotografia dell'assessore Tinti insieme al presidente della T41 Michele Gianni sono stati presentati i progetti di questa realtà e su questo articolo si parla anche dello spettacolo di questa sera alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna le Zagaredde un incidente stradale schianto in centro il palo la salva auto fuori controllo ieri mattina in Viale 12 Settembre al volante c'era un uomo di 81 anni è stata ferita una donna da alcune schegge ma proprio il semaforo ha impedito che venisse investita infatti ha fermato l'auto prima che la colpisse Seri tre mosse per Ponte Sasso c'è stata l'altra sera un'assemblea con i residenti si è presentato il sindaco è stata un'assemblea abbastanza turbolenta è stata chiesta la polizia dei fossi attraverso idraulici vicino alla ferrovia e sbocchiamare per fossati e scolmatori Ponte Sasso è appena reduce da danni che si sono verificati a causa dell'ultimo temporale a San Costanzo si insiste contro l'ampliamento della discarica di Monte Schiantello è stata inviata una petizione con tante osservazioni alla provincia di Pesaro Urbino per cercare di evitare questo ampliamento e a Pergola in vetrina tre giorni di Cioccovisciola l'undicesima edizione Alvia presentata da Varotti Santelli e Marc Antonini e veniamo anche alle monatizie di sport siamo ormai in conclusione vediamo come si parla vediamo un attimo se riesco a raggiungere eccola qua la pagina dello sport vediamo il titolo che riguarda la VIS dolce dicembre per la squadra pesarese in casa disputerà tre gare su quattro ora Olbia e poi Molese poi il derby di Ancona e infine il Siena ancora al Benelli in paglio sono punti veramente importanti pesanti per tenere a distanza le zone calde della classifica per il Fano invece si presentano due esami tosti il patron russo mette nel mirino le sfide contro la capolista Trastevere e la vice Re Canatese la società poi smentisce le polemiche tra Capellacci e Russo dopo la sostituzione di domenica e qui vediamo un po' le foto che riguardano quella partita e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento alla rassegna stampa di domani e vi ricorda occhio alla notizia il TG di Fanos TV questa sera alle ore 20 e 30 buona giornata grazie a tutti